di uno Stato democratico. E ora ci spostiamo nelle zone terremotate. Ad Amatrice continuano i lavori per la realizzazione del centro commerciale. Gli abitanti chiedono di far presto. Tra coloro che attendono è anche un gelataio che ha vinto un campionato italiano e concorrerà per quello mondiale. Vediamo insieme il servizio della nostra inviata Isabella Di Chio. Lavori in corso nei cantieri di Amatrice. Prosegue la realizzazione dell'area commerciale dove riapriranno le attività distrutte dal sisma. Un'economia in ginocchio, quella del comune Reachino. I commercianti attendono e sono stanchi di aspettare. Daniele era il gelataio di Amatrice. Il suo negozio si trovava proprio sotto la torre civica. In questi giorni ha vinto il campionato italiano del settore. Nel mese di settembre rappresenterà il nostro paese ai mondiali. Una vittoria che dona speranza. Ti dà quella voglia di ripartire dopo che comunque ero l'unico su 120 finalisti a non avere più l'attività. Io ho rifatto quel giorno, ho rifatto una vaschetta del gelato dall'ultima volta, era il 24 agosto all'una e mezza. Un gelato che ha il sapore della sua terra. Questa è la particolarità perché io ho portato un gelato prodotti tipici di Amatrice, quindi ho fatto un gelato alla ricotta di pecora variegato col miele di castagno di Amatrice, del mio vicino di negozio Gecco che tutti conoscevano, e noci. Coloro che sono rimasti per ripartire vogliono recuperare anche i ricordi. Io sono nata qui, questo è il nostro territorio e non intendo abbandonarlo. Io voglio vivere come ho vissuto sempre qui ad Amatrice. L'unica cosa è recuperare quei piccoli oggetti, quelle cose di famiglia che sono dei ricordi. Si prova a ripartire e proseguono le iniziative di solidarietà. La CIA, la Confederazione degli Agricoltori, ha donato 100.000 euro per il nuovo centro di formazione professionale alberghiero di Amatrice, somma che è frutto dell'iniziativa amatriciana solidale. Ad accumulo in questa settimana inizieranno i lavori per le strutture commerciali che saranno posizionati in quest'area, dove ci saranno 9 negozi, altri 2 saranno delocalizzati nelle frazioni. Anche negli altri comuni del cratere si cerca di ricominciare, ma non è facile. Nel comune di Borbona si è proceduto all'esproprio delle aree dove sorgeranno le casette. Qui saranno costruite 18 SAE, 5 nella frazione di piedi mortenti. Prima di quest'estate conto che i miei concittadini residenti non agibili entreranno all'interno delle abitazioni provvisorie.